buonasera ben ritrovati a tutti buon santo stefano buon buone feste mi auguro che abbiate tutti passato un natale sereno non sto io qui a turbare i vostri giorni di festa ma dobbiamo aprire una piccola parentesi una piccola pillola di verità che non deve mai mancare neanche nei giorni di festa non perché voglio in qualche modo turbarli ma perché penso che la verità faccia sempre piacere soprattutto non vuol dire essere pessimisti se noi raccontiamo certe cose anche in dei giorni particolari ma vuol dire essere sempre attenti a quello che ci accade intorno ho appena pubblicato un nuovo video sul mio blog francescomodeo.it dal titolo 2018 Putin mise in guardia su chi stava sviluppando armi biologiche poi la pandemia poi l'operazione speciale in ucraina e la scoperta dei bio laboratori gestiti dagli americani quindi questo è quanto racchiuso in quel video un video inedito perché è una denuncia di Putin del 2018 precisamente al Valdai Discussion Group ossia una sorta di World Economic Forum russo quindi tutto prettamente russo un incontro molto importante per i russi bene un giornalista fece una domanda al presidente russo gli chiese caro presidente sappiamo che in queste ore circolano voci non solo in Russia ma in diversi paesi e nostri confini che gli americani stiano sviluppando delle armi biologiche proprio ai confini con la Russia lei che cosa ne pensa e Putin devo dire la verità diede una risposta utilizzando molto poco la propaganda anzi è stato molto onesto in quel caso lui disse non ho ancora tutti gli elementi sufficienti per giudicare se queste informazioni sono vere o sono false ma ho ricevuto una documentazione che sto analizzando da parte dell'ex ministro per la sicurezza nazionale georgiana dato che questi laboratori erano presenti secondo la documentazione non solo in in Ucraina ma anche in Georgia e dice sono dei documenti molto preoccupanti perché non solo parlano dello sviluppo di armi biologiche ma parlano delle nuove tecniche utilizzate per sviluppare queste armi e la cosa dice Putin che più mi sorprende e mi spaventa è che queste armi utilizzano delle sofisticate tecniche per andare a colpire dei specifici gruppi etnici quindi e Putin rilascia questa dichiarazione che è passata totalmente inosservata ovviamente ai media mainstream occidentali volutamente è passata inosservata ma è passata inosservata anche a molti miei colleghi della controinformazione infatti in tanti nel 2018 abbiamo dato la notizia di questa denuncia di Putin e delle armi biologiche ma a molti è passata inosservata questa frase invece importantissima utilizzeranno queste armi per colpire degli specifici gruppi etnici perché è fondamentale questa frase e voglio portarla alla vostra attenzione perché si ricollega ad un documento che io ho citato spesso nei miei libri l'ho citato in 31 coincidenze sul coronavirus e sulla nuova guerra fredda usa cina l'ho citato nel libro perché il conflitto è nato è un documento molto vecchio di una potentissima organizzazione statunitense chiamata il pnac acronimo di project for a new american century progetto per un nuovo secolo di dominio americano lo specifico documento redatto da questa organizzazione si chiamava rebuilding american defense ne abbiamo parlato tanto quindi rilanciare la difesa americana quindi rilanciare la leadership americana nel mondo bene in questo documento scrivono che per rilanciare la la leggemonia americana nel mondo soprattutto nel caso in cui una nuova superpotenza minacciasse la leadership statunitense bisognava essere pronti a tutti anche ad utilizzare armi biologiche come strumento politicamente utile e fin qui nulla di nuovo perché di questo documento ne ho parlato tante volte però perché mi ricollego adesso al discorso di putin perché ho qui davanti agli occhi il documento in in questione nell'articolo che ho pubblicato vi ho messo anche il link per andare a leggere l'intero documento dagli archivi di internet perché poi è stato cancellato dalla fonte ufficiale ma lo ritrovate negli archivi di internet in formato originale vi ho messo anche la fotografia di quella parte di documento che adesso vi vi leggerò e che se li collega in maniera incredibile alle parole che putin aveva pronunciato nel 2018 perché in questo documento è scritto forme avanzate di guerra biologica possono diventare uno strumento politicamente utile se riescono a mettere come target specifici genotipi quindi se riescono a colpire dei specifici genotipi queste armi biologiche diventano uno strumento politicamente utile per rilanciare la leadership americana nel mondo quindi questo documento parla di armi biologiche per colpire specifici genotipi putine nel 2018 denuncia il fatto di aver ricevuto da fonti georgiane documentazioni del fatto che gli americani stessero creando lavorando ad armi biologiche per colpire specifici gruppi etnici quindi questi due documenti in qualche modo si ricollegano ma c'è una cosa ancora più impressionante che ancora più di tutte è passata inosservata mentre io la sottolineo sia nell'articolo che vi pubblico sia adesso nella diretta per chi non ha accesso al video dedicato ai miei sostenitori quindi agli abbonati al mio blog bene chi ha redatto il documento rebuilding american defense dove si parla di utilizzare le armi biologiche per colpire specifici genotipi è robert kagan un neoconservatore americano guarda caso marito di victoria nuland victoria nuland è l'eminenza grigia degli affari statunitensi in ucraina e guarda caso è proprio la stessa victoria nuland che ha dovuto ammettere l'esistenza di laboratori biologici in ucraina sotto la supervisione degli stati uniti quindi il cerchio si chiude gli americani scrivono nei primi anni del 2000 che stanno lavorando ad armi biologiche che potrebbero essere utilizzate come strumento politicamente utile in caso dell'avvento di una nuova superpotenza che queste armi andranno a colpire specifici genotipi come scrivono nel loro documento putin riceve nel 2018 la documentazione dalla georgia dall'ex ministro per la sicurezza nazionale che lo mette in guarda dice stai attento perché in georgia e in ucraina gli americani stanno sviluppando armi biologiche per colpire degli specifici gruppi etnici proprio ai tuoi confini e poi l'anno dopo scoppierà la pandemia poi dopo la pandemia scoppierà l'operazione speciale in ucraina dove putin rimetterà le mani come dichiarato da vittoria nuland su questi bio laboratori e guarda caso lo ripeto tutto questo viene alla luce tramite vittoria nuland che proprio la moglie del neocon robert kagan che aveva scritto il documento del signori miei il cerchio si chiude e ancora una volta vi ho messo di fronte ad un mosaico incontrovertibile che nessuno potrà smentire che fatto però di tanto lavoro perché è il lavoro che faccio da sempre io per voi quello di unire i puntini quello di stare attento a tutti i collegamenti per poi mostrarvi qualcosa di chiaro di assolutamente documentato e di assolutamente lontano da qualsiasi teoria del complotto vi invito a guardare il video lo trovate sul sito francescomodeo.it alla voce video è un video con un articolo allegato con tutte i link alle fonti dedicato ai miei sostenitori cioè a chi sostiene il mio lavoro a chi mi permette di stare qui anche in un giorno di festa per raccontarvi sempre la verità approfondimenti sul sito francescomodeo.it io vi ringrazio vi abbraccio buone feste a tutti